La Madonna a Meciugori ha detto che desidera che recitiamo questa preghiera. La Madonna, nel corso di varie apparizioni a Meciugori, ha spesso detto quali sono le preghiere che dovremmo recitare per rafforzare la nostra fede, per sentire l'amore per Dio crescere in noi. Dio, lei e Gesù amano queste preghiere e che sono? Credo, Ave Maria, Gloria al Padre, Padre Nostro e Angelus. Ecco che l'ultima preghiera è molto gradita dalla Madre di Gesù che in alcuni messaggi ci ha invitato a recitarla spesso anche insieme alle altre preghiere. Dunque ecco per voi l'Angelus completo in cui ritroviamo anche le preghiere Ave Maria e Gloria al Padre. Rafforzate la vostra fede pregando. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Prega, siamo resideni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che nell'annunzio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guiderci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dillo Spirito Santo. Amen.